Bene ritrovati gentili telespedatori, eccoci nuovamente assieme con la realizzazione e con il telegiornale del Veneto orientale. In apertura andiamo subito a Cinto Caomaggiore per parlare di un decesso avvenuto lo scorso marzo proprio a Porto Gruaro dove una giovane di Cinto, Andrea Carolo, noto tra l'altro per essere un ciclista ormai di professione, morì per cause che poi sono rimaste un vero dubbio, un vero giallo per tutti questi mesi. Ebbene ieri è arrivata la sentenza di assoluzione per il responsabile della palestra all'Arena 5 dove il giovane era andato con un amico in un momento di relax e da lì poi si è scoperto attraverso i dati tecnici del Tribunale e quindi delle indagini che il giovane soffriva di cuore. Sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. Andrea soffriva di cuore, il 21enne ciclista di Cinto Caomaggiore Andrea Carolo, deceduto nel marzo dello scorso anno, aveva un problema di cardiopatia che dagli esami sportivi non era mai emerso. Lo hanno accertato i tecnici incaricati dal Tribunale di Pordenone che in questo modo hanno fatto chiarezza sul decesso da giovane. Per la morte di Carolo era stato indagato per un uccidio colposo il responsabile della palestra dell'Arena 5 di Porto Gruaro dove la sera del 23 marzo Andrea ed un amico si erano recati per una serata di relax. Il PM Monica Carraturo, che ha coordinato l'indagine, ha chiesto l'assoluzione per il professionista responsabile dalla palestra del centro portugarese che è stata sposata in toto dal giudice. L'uomo è stato quindi assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Il pool di avvocati della difesa si avvalso del medico delegale Antonello Cirnelli per far emergere la verità. Un'indagine tutt'altro che facile, dato che il 21enne praticava il ciclismo a livello ormai professionistico e il problema di salute era praticamente escluso. Eppure il dottor Cirnelli ha evidenziato la vera causa del decesso. Andrea soffriva di una forma di aritmia cardiaca, un problema al cuore del quale la giovane vittima e i suoi familiari, a quanto pare, erano all'oscuro. A telefonarmi era stata una mia ex dipendente che lavora per il bar dell'Arena 5, raccontò il genitore Giorgio Carolo. Aveva in mano il telefono di Andrea, mi disse che non stava bene, ma quando le chiedevo spiegazioni tergiversava. Capì subito che mio figlio era in condizioni disperate. Erano i momenti in cui, nel centro Arena 5, stavano tentando di salvare la vita al 21enne. Andrea con un amico stava facendo una seduta in sauna. Quando l'amico, dopo una breve pausa, rientrò nella sauna, lo trovo ormai collassato. Il compagno, resosi conto della gravità della situazione, aveva attivato i soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili. Aveva messo tutto se stesso per il ciclismo, raccontarono mamma e papà. Aveva otto anni quando si innamorò della bicicletta, da allora non era più sceso dalla sella. Una vera promessa del ciclismo, Andrea, che continuava ad allenarsi non sapendo che quegli sforzi erano come una bomba ad orologeria. Con un figlio in sella alla bicicletta, ti aspetti che possa accadere un incidente, ribadì il papà. Solo qualche settimana prima avevamo festeggiato il suo ventunesimo compleanno. Andrea Carolo era nato l'11 marzo a San Vito a Tagliamento. Aveva frequentato le scuole a Pordenone, diplomandosi all'istituto tecnico Pertini. Viveva a Cinto Calmaggiore con i genitori, che per 25 anni hanno gestito una pizzeria in paese. Brute notizie arrivano invece da Musile di Piave, dove ancora una volta il Chris Bar viene ripulito. Nonostante il proprietario con il figlio avesse cercato addirittura di fare una sorta di copertura H24 del locale. Nel senso che si davano addirittura il turno per cercare di evitare i ladri. Ebbene in piccoli momenti di pausa, pochi minuti, sono bastati i ladri per ripulire l'intero locale. Sentite. Non posso lavorare per gli altri, mi ha voglia di mollare tutto. Amareggiato e sconsolato Ivano Bottan, titolare del Chris Bar di Caposile, che gestisce con il figlio dopo che la notte scorsa i ladri sono entrati nel locale portando via tutto il contenuto delle slot e delle cambiamonete per un bottino di almeno 6.000 euro, cui vanno sommati i danni. L'esercente è conosciuto anche per essersi organizzato in modo che nel bar ci sia sempre una persona dentro. E' come se dormissimo dentro, racconta. Con mio figlio ci siamo organizzati a turni di 8 ore a testa, a rotazione, così che nel locale rimanga sempre qualcuno. E questo proprio per evitare di subire furti dopo un precedente tentativo. Ma anche questo sistema non ha funzionato. Hanno approfittato di quei pochi minuti che mi sono serviti per farmi una doccia, probabilmente ci tenevano d'occhio. Il furto è stato commesso in pochi minuti verso le due e mezza della notte. I malviventi sono saliti al piano rialzato dall'edificio, hanno tagliato le inferiate, probabilmente con un flessibile, quindi sono scesi nel locale e hanno svuotato le macchinette. L'allarme è suonato, ma quando Bottana è ritornato nel locale, dei ladri, non c'era più traccia. Porta di via i soldi delle slot, ma anche i vari pacchetti di sigarette, per un totale di circa 6.000 euro, cui vanno aggiunti i danni. Mia moglie mi dice di molare tutto, conclude. E in effetti la tentazione di farlo c'è, perché non si può lavorare per gli altri, tra l'altro, con la sensazione di non essere tutelati. A Oderso sono arrivati i primi migranti. Sono 12 uomini, originali della Guinea-Bissau in Africa, che sono stati collocati in tre appartamenti che si trovano a Piavon. All'oggi che sono stati messi a disposizione dell'Istituto di Sostentamento del Clero attraverso la Claritas Vittoriese. Sono i primi migranti che richiedono asilo da arrivare proprio in città. Il primo soggetto a dare la sua disponibilità per l'accoglienza diffusa è stata la Chiesa Cattolica attraverso proprio la Diocesi di Vittorio. A tale proposito strida il contrasto con il diniego ricevuto invece dallo Stato nella fattispecie dal demanio che in città è proprietario di ben otto alloggi che potrebbero essere utilizzati subito. Il vice-sindaco di Oderso, Bruno De Luca, in una lettera aveva chiesto la disponibilità di un paio di essi per riceverne un garbato diniego. La Diocesi invece, con il vescovo Corrado Pizziolo, ha messo in pratica il desiderio espresso da Papa Francesco, una famiglia migrante per parrocchia, anche se degli 12 che sono arrivati non si trattano di vere famiglie, sono dei single, ma comunque di accoglienza si tratta. Andiamo a Caorle invece. Ricordate la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l'ex vice-sindaco Ileno Bronzina di Caorle, era accusato di bancarotta, invece è stato assolto. Sentite. Non ci fu bancarotta. L'ex vice-sindaco di Caorle, Ileno Bronzina, è stato assolto a conclusione del processo penale che lo vedeva imputato in relazione al fallimento della società di cui era amministratore fino al 2010, la PEUSI SAS di Caorle. La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio di ieri dal Tribunale di Venezia, presieduto da Savina Caruso. La soluzione è stata pronunciata perché il fatto non costituisce reato. Il pubblico ministero, Laura Cameli, si era invece battuta per la condanna dell'imprenditore ad un anno e quattro mesi dell'eclusione. Finalmente si sta iniziando a fare giustizia, ha commentato Bronzina a conclusione dell'udienza, tra i sorrisi e gli abbracci dei componenti dell'Associazione per la Difesa dei Diritti dei Cittadini, che hanno atteso assieme a lui la sentenza. L'ex vice-sindaco era accusato di non aver tenuto i libri contabili della società, nonché di aver distratto alcuni beni, tra cui due auto e una motocicletta, sottraendoli ai creditori. Il suo difensore, l'avvocato Michele Maturi, ha spiegato che quei beni erano di poco valore. Un'auto era un rottame, una seconda fu venduta per 150 euro, mentre la moto, anch'essa piuttosto datata, fu sottratta dai gnoti. Quanto ai libri contabili, Bronzina non li aveva tenuti, in quanto la società non aveva avuto alcuna attività e dunque avrebbero riportato unicamente la cifra zero per ogni annualità, dopo l'avvenuto sequestro dell'immobile che stava costruendo tuttora bloccato. Bronzina ha annunciato che proseguirà la battaglia per ottenere la revoca del fallimento, a suo dire dichiarato senza motivi. La vicenda giudiziaria che riguarda Bronzina si trascina da oltre 25 anni. Ha avuto inizio nel 1990 con una causa promossa contro l'ex vice sindaco nel corso della quale fu fatto figurare che suo nonno era morto, ottenendo l'usurcapione di un'area e fermando la costruzione dell'immobile che era in via di costruzione. La cronaca ci porta anche a Iesolo, se ne va un altro pezzo della storia imprenditoriale della città iesolana. È venuto infatti a mancare all'età di 84 anni Albino Tamburini, grazie a una felice intuizione e un inato spirito aziendale era riuscito a creare anche un piccolo impero legato all'import e all'export nella vendita al dettaglio di accessori in pelle. Era originario di Riccione, arrivato a Iesolo nel 1973, aveva avviato l'attività di commercio all'ingrosso espandendosi di fatto in tutta Europa. Il funerale sarà celebrato domani mercoledì alle 10 nella chiesa di Iesolo Paese. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene. E ora cambiamo decisamente pagina, parliamo del territorio del Veneto orientale perché sono stati nominati i direttori delle varie specialità dell'azienda sanitaria, tra questi c'è anche un infermiere. Un infermiere nella squadra dei dirigenti dell'AS10. È il primo caso nel Veneto e solo per una questione di pochi giorni non lo è anche a livello nazionale. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza ha nominato i nuovi manager e tra i quattro c'è per l'appunto un laureato in scienze infermieristiche, insomma un non medico. Si tratta di Mauro Filippi, 52 anni, sandonatesi di nascita. È una scelta che abbiamo condiviso con il governatore del Veneto, Luca Zaia, spiega Bramezza, con una figura professionale rivolta al territorio e che sarà molto utile. A lui l'incarico di direttore sociale e della funzione territoriale. Esulta la federazione dei colleghi degli infermieri. La nomina giunge dopo un percorso iniziato con la discussione sul piano sociosanitario fino al 2011. Ha commentato il presidente del collegio di Venezia, Luigi Schiavone, passato attraverso relazioni improntate alla collaborazione con tutti gli enti e la regione Veneto. La professione ha saputo dimostrare la maturità per assumersi responsabilità anche ai massimi livelli. Così, dopo la regione Feruli Venezia Giulia e la Lombardia, anche il Veneto investe sugli infermieri. Filippi, che vanta una lunga esperienza in ambito sanitario, si è detto pronto ad affrontare questa sfida. Altro volto nuovo nella squadra dei direttori è quello di Maria Grazia Carraro, laureata in medicina e chirurgia trevigiana, con molte esperienze, va a ricoprire il ruolo di direttore sanitario. Michela Conte è stata invece confermata nel ruolo di direttore amministrativo. A Pierpaolo Pianozza, ex direttore sanitario, è andata alla direzione del distretto sociosanitario unico. Ritengo che questa sia una squadra veramente forte, conclude Barmezza, che saprà affrontare le nuove sfide di riorganizzazione nel territorio del Veneto orientale, che, ricordiamolo, è l'unico a non essere stato interessato dagli accorpamenti. Continuiamo a parlare di sanità. Il Movimento 5 Stelle chiede che nella ASL 10 venga inserito il registro dei tumori. Sarà un unicum regionale la nuova tappa produttiva del progetto orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, realizzato dall'associazione musicale Aurora Ensemble con il contributo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Una piccola serenata notturna è il titolo dell'appuntamento che subito evoca il capolavoro del Wolfgang Amadeus Mozart, Ein Klein Naksuzic, e che bene restituisce le atmosfere della serata in programma per questo mercoledì alle 20.45 nel Duomo di Lignano, proposta in esclusiva regionale con ingresso libero. Il classico mozartiano sarà l'imcit del recital affidato all'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi. È una vera star del melodramma contemporaneo, il baritono Giorgio Cadouro, voce fra le più applaudite a livello internazionale, vincitore del prestigioso concorso Aslilco premiato con il Green Room Award all'Opera di Melbourne. Cadouro è protagonista della Scala all'Opera di Parigi ai teatri di Londra, Berlino, Sydney, Roma, Monte Carlo, San Francisco, Seul, Dallas, Stoccarda. La sua brillante carriera è stato diretto da straordinarie bacchette, ma anche da registi come Ronconi, Brillocchio, Scaparro e Servillo. Il concerto è proposto in collaborazione con il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, il Comune di Mossa con il Circolo Jacquie Maritain e l'Associazione Pro Musica Salzburg. An Einenklein Naksburg, eseguita in apertura di programma, faranno a seguito anche alcune tra le più suadenti melodie per voce e orchestra, capolavori vocali quali Ombra fedele anch'io, dall'IDAPSE di Riccardo Broschi, straordinario compositore napoletano, scomparso nell'anno in cui nasceva Mozart e ancora alcune fra le più intense pagine tratte delle opere liriche Ro de Linda, Cerse e dell'Orlando di Endel, autore molto ammirato da Mozart, che realizzò anche un'originale versione riorchestrata del Messia, il massimo cabolavoro endegliano. A Portuguaro il Lions Club ha consegnato alla squadra Portuguaro Calcio un defibrillatore che servirà alla società per dotare, essendene attualmente privo, il campo sportivo di Vialovisa dove attualmente giocano gli oltre 200 iscritti al settore giovanile, la squadra femminile che emilita nel campionato di Serie D. L'iniziativa, ha detto il presidente del Lions Club, Amedeo Zoppelletto, è una delle tante che il nostro club puntualmente realizza a favore dei giovani coinvolgendo, come in questo caso, il mondo dello sport, oltre a quello della scuola e del sociale più in generale. Parliamo ancora del Veneto orientale e dell'azienda di trasporti, l'ATVO, che ha deciso ancora una volta di premiare i giovani, giovani che mettono in evidenza in questo caso il territorio in cui vivono, questo Veneto orientale. Scatti dunque per promuoverlo, sentiamo qual è questa iniziativa. La prima volta fu per chiedere un aiuto a individuare i maggiori problemi per chi usa i mezzi pubblici per spostarsi, è una soluzione per risolverli, con Attiviamoci, muoversi in una città intelligente e sicura. Ora ai ragazzi del Veneto orientale viene chiesto di dare un'idea concreta per promuovere il territorio. E il nuovo concorso di ATVO, indirizzato a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio, con Fai scattare la fantasia, questo è il tema dell'edizione, viene chiesto agli studenti di immortalare con una foto un angolo del Veneto orientale più volto percorso con i mezzi pubblici, magari anche quelli meno conosciuti e più caratteristici. I migliori non solo verranno premiati, ma verranno utilizzati da ATVO per le nuove campagne promozionali. E noi teniamo in grande considerazione dei suggerimenti che ci vengono forniti dai ragazzi, riferisce il presidente di ATVO, Fabio Turchetto, perché sono i primi fruitori dei nostri mezzi e perché hanno menti aperte, brillante, non condizionate, dalle quali possono venire fuori idee e proposte veramente utili. Ad esempio, alcuni dei progetti che stiamo portando avanti, concretamente, vedi il wifi libero negli autobus prossimo alla realizzazione, sono stati ispirati proprio dalle soluzioni che ci sono state suggerite dai ragazzi. Dai problemi alle eccellenze del territorio, ora vogliamo che i ragazzi ci facciano vedere il meglio del nostro territorio, così da promuoverlo, vedendolo con i loro occhi, aggiunge il direttore dell'ATVO, Stefano Cerchier, che ha seguito il progetto passo dopo passo. Qui la fotografia non è intesa solo come semplice testimonianza visiva, ma come modalità per condividere luoghi, paesaggi ed emozioni legate al proprio territorio. Verrà premiato chi riuscirà a trasmettere con le immagini la sua sensibilità, curiosità, intelligenza e il proprio amore per il territorio. A maggio, la giornata di premiazione, verranno selezionati due vincitori, uno per la scuola secondaria di primo grado e uno per la scuola secondaria di secondo grado. Ciascuno dei due verrà premiato con una macchina fotografica e le scuole di appartenenza avranno un assegno del valore di 1.500 euro. L'anno scorso vennero coinvolti 26.600 studenti da tutto il Veneto orientale, appartenenti a 109 scuole, 61 furono gli elaborati ricevuti, 11 ragazzi premiati. È un concorso che ha anche un altro scopo, conclude Turchetto, ovvero quello di entrare nelle scuole e parlare loro di uso dei mezzi pubblici e di sicurezza. Ma gli eventi aggressivi con gli anziani serve di più partire con il controllo del vicinato, così il sindaco di Noventa di Piave, Alessandro Nardesa, l'indomani della notizia della rapina subita da un'anziana residente in via Zattere a Romanziol. Mentre stava stendendo i panni nel primo pomeriggio, una donna infatti la ricorderete si era avvicinata e le aveva spruzzato una sostanza sul viso che poi l'aveva intontita e poi con un complice le aveva svuotato l'abitazione. Credo che l'elemento che funziona di più sia il controllo del vicinato, arriva dito il sindaco, e qualcosa di nuovo in un contesto di vicinanza attiva capace di affrontare quella che ormai non è più una sfida rispetto al problema della sicurezza. Progetto quindi ormai pronto a partire, sono già state costituite le zone, continua il primo cittadino, per poi individuare i referenti che diventeranno gli interlocutori con le forze dell'ordine una volta che arriveranno le varie segnalazioni. Torniamo invece a Motta di Livenza per parlare ancora una volta del Carnevale. tra le varie soddisfazioni quelle della Proloco che ribadisce il successo di questa edizione del Carnevale Mottense. Ilario Dalleluzzi, Presidente della Proloco. Allora Presidente, folla, impressionante. È andato tutto bene, il tempo ci ha graziato, insomma un bel successo. Un bellissimo successo, la nebbia si è dissolta al giusto orario, alle due c'era un piccolo sole tiepido che ci riscaldava e poi la gente ha fatto il resto. Allora, martedì abbiamo l'ultima sfilata, martedì 9 e naturalmente la domenica prossima con il Carnevale dei Bambini. Speriamo nel tempo sempre perché questo è fondamentale. Comunque oggi, insomma, di più non si poteva chiedere. No, oggi non si poteva chiedere di più. Le previsioni hanno rispecchiato, visto il periodo va benissimo così. Poteva andare peggio, ma il tempo ha tenuto. Allora, concorso fotografico, quest'anno di nuovo la diretta TV e tutta la promozione, insomma, tutto ha pagato. Tutto ha pagato. Ringraziamo Media24 per la diretta, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato per il concorso fotografico e avanti così. Grazie, al prossimo anno. Adesso abbiamo Vinicio Scortegagna, ci propone uno scatto dal territorio per Foto Reporter. Allora, telespettatori, si ferma qui il telegiornale del Veneto Orientale. Vi ringrazio per averci scelti, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alle prossime news.